Eh, sta chiuso a 4 mesi, devo dire aiutato anche da svegliare i nostri testi per quanto ha fatto i disegni che vogliono tirare e fermare, dopo svegliare, ricambia completamente tanto, ma ultimamente poco avvicinato. Eh, locale dominante, eh, locale che incomincia la verifica del territorio e del realista. Eh, punta molto sulla genuinità dei prodotti, quindi, eh, scelta qualitativa dei prodotti, eh, un'ottima cantina di vini, eh, proprio per questa popolazione è inserito nei ristoranti che sono certificati, perché i ristoranti che sono presenti, i che sono ristoranti certificati in Italia, hanno dovuto, eh, sopportare e rispondere a 200, eh, peculiarità che devo vedere, eh, e che non sono sicuramente 15 qualitati. Eh, come dicevo prima, continuano alla ricerca assoluta di prodotti comunitivi. A volte, con vicina classica, anche prodotti del resto del territorio nazionale, però veramente punta la sua attività, eh, sui prodotti comunitivi. Il piatto di oggi, non parlo molto, ma non parlo tanto, il piatto di oggi, sono i gnocchi a rotare ottiche, con i beatles, eh, carne secca, c'è della carne secca in questo, questo, il piatto di oggi. Eh, io mi fermo qui, non tanto ci sentiamo, ma, eh, sarà il nostro cuoco, che torna a Vito, che ti farà vedere, questo è il nostro pubblico, ma è sostanzialmente una sessione di tutti, che presso l'albato ci sarà in tutto. Ti farà quindi vedere come si in tutto. Finita l'istituzione, la manifestazione, se qualcuno vorrà porre delle domande, vorrà capire un po' di ciò, prezzo un tempo al sito e a Vito, mi intervista a Vito, farà l'istituzione e gli occhi per, eh, più rispondere alle domande. Vito, profondi, a te la parola e a te la loro. Grazie.